Buongiorno, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Mattino 6 di giovedì 27 agosto 2015, apriamo la nostra consueta rassegna stampa andando a vedere il santo del giorno prima di passare alla lettura dei nostri quotidiani Chiesa Cattolica che ricorda oggi Santa Monica, madre del santo Sant'Agostino sempre grandemente venerata dalla Chiesa e posta a modello delle madri cristiane nacque a Tagaste in Africa nel 331 da famiglia cristiana nella quale fin dall'infanzia imparò a conoscere ed amare Dio ebbe anch'essa come tutti i fanciulli certi difetti propri dell'età giovanile fatta giovinetta, i suoi genitori la sposarono ad un legionario romano di nome Patrizio galantuomo ma pagano di religione non si smarrì la santa, anzi il suo primo pensiero unendosi al compagno della sua vita fu quello di guadagnarlo a Gesù Cristo mediante una vita sottomessa fatta di rispetto ed amore madre di tre figli Agostino Novigio e una figlia di cui ignoriamo il nome fece una vita da santa nel 375 il figlio Agostino si trasferì a Cartagine per insegnare eloquenza e invece Santa Monica si ammalò gravemente e poi morì il 27 agosto del 387 dunque viene ricordata Santa Monica madre tra l'altro di Agostino che poi divenne in seguito Sant'Agostino allora noi lasciamo questa prima pagina dedicata al Santo del Giorno apriamo la nostra consueta rassegna stampa partiamo dal quotidiano d'Abruzzo il centro andiamo a vedere insieme i titoli delle quattro edizioni partiamo da quella di Pescara ecco qui la prima pagina del centro edizione di Pescara primo titolo che riguarda il titolo principale di questa pagina che riguarda la questione ormai fin tanto è troppo dibattuta dell'inquinamento del mare perché parla l'ACA il suo presidente troppi scarichi abusivi mare sporco il presidente dell'ACA dice non mi dimetto il depuratore funziona e poi vedete la fotonotizia di centro pagina si torna agli scontri avvenuti all'Aquila poche ore fa due giorni fa nel corso della visita nel capoluogo di regione del Premier Matteo Renzi vedete Pescaresi nei disordini scoppiati all'Aquila la manifestazione anti-Premier e poi all'interno nelle cronache le notizie che troveremo proprio nell'edizione di Pescara del centro la cronaca stalker arrestato tre volte perseguitata dal vicino di casa per dieci anni e poi l'evento partenza sprint festa dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia con il tutto esaurito e poi una notizia che arriva da spoltore residenti in aumento ma spoltore cresce ed ora è la capitale dei single allora questi i titoli principali dell'edizione di Pescara del centro tra qualche istante andremo a vedere anche i titoli delle altre edizioni proseguiremo con l'edizione di Chieti Lanciano Vasto poi andremo avanti con l'edizione del centro di Teramo e poi chiuderemo con l'edizione del centro di L'Aquila Avezzano e Sulmona allora ecco l'edizione del centro edizione di Chieti travolto e ucciso dal trattore ennesimo incidente agricolo mortale accaduto a San Salvo secondo incidente in due giorni muore un pensionato di 76 anni e poi centropagina la fotonotizia in questo caso che arriva da Chieti controlli sull'impianto di depurazione a San Martino cattivi odori nell'aria sopra luogo del sindaco di Primio che vedete nella foto con gli agenti del corpo forestale dello Stato poi nelle cronache dramma in centro a Lanciano spinto a terra batte la testa grave un cinquantenne poi a Chieti al tribunale ecclesiastico arriva Buzzelli dunque novità per quanto riguarda il tribunale ecclesiastico che ha sede proprio a Chieti e poi a Vasto a secco commercianti dall'avvocato dunque c'è questa notizia che riguarda la protesta degli esercenti della città vastese lasciamo l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro per proseguire andiamo a vedere i titoli che riguardano invece in questo caso l'edizione di Teramo del centro ovviamente è inutile sottolineare che quella di oggi è una giornata importante fondamentale per il Teramo ci sarà il giudizio di secondo grado per la società bianco-rossa a Roma andiamo a vedere qual è il titolo principale non poteva che riguardare proprio la Teramo Calcio il Teramo prova a salvare la Serie B anche Cerulli i rally in aula dunque un avvocato di grido per la società bianco-rossa un altro legale al fianco della società e anche del presidente Campitelli a Roma 300 tifosi mentre la città è contro Renzi perché ricorderete ne abbiamo parlato anche ieri in maniera diffusa nel nostro telegiornale c'è stata proprio nel corso della visita del Premier una battuta non proprio felicissima di Renzi sul Teramo e soprattutto sui suoi tifosi vediamo nelle crona che l'incidente morto il fornaio sia la donazione degli organi non ce l'ha fatta l'uomo che era rimasto coinvolto in un incidente stradale poi l'ex direttore generale della banca di credito cooperativo profeta accusato di estorsione ad imprenditore e poi Giuliesi furiosi dunque siamo a Giulianova per il caos Tari salta la testa del dirigente e noi chiudiamo con l'ultima edizione del centro prima di passare al messaggero l'edizione del centro di L'Aquila Avezzano e Sulmona chiaramente nell'edizione dell'Aquila del centro si parla ancora e soprattutto dei tafferugli che ci sono stati nel corso della visita del Premier Renzi in città scontri per Renzi i primi sospettati l'Aquila la procura si muove per identificare i violenti del corteo e poi vedete la foto Renzi divide padre e figlio storia di Giovanni e Mattia i lolli contro da una parte il vicepresidente della regione dall'altra il figlio Mattia le cronache al Fedena soldati salvano disabile avvolto dalle fiamme poi ad Avezzano prostituta presa a cinghiate caccia all'uomo a Sulmona dunque in Valle Peligna dirigente accusa io mobbizzato dal comune lasciamo le edizioni del centro passiamo al messaggero in questo caso andiamo a vedere lo faremo tra qualche istante la prima pagina del quotidiano romano ovviamente si parla di titoli di respiro nazionale poi inizieremo con la lettura delle pagine interne del quotidiano romano e poi nella seconda parte come sempre daremo spazio alle cronache locali prima pagina del messaggero Roma Marino sotto tutela relazione Alfano su mafia capitale non allo scioglimento ma superpoteri al prefetto Gabrielli verso la rimozione di dirigenti in arrivo tre tutor giubileo sotto la regia del prefetto dunque super tutela in questo caso per il sindaco Marino anche per le indagini che proseguono su mafia capitale poi questa notizia sconvolgente che arriva dagli Stati Uniti uccide in diretta tv due colleghi filma l'esecuzione posta il video è successo è accaduto in Virginia suicida il killer il movente forse di natura razziale e poi migranti 51 morti soffocati dai gas chiusi nell'estiva tragedia su un barcone diretto in Sicilia trattato di Dublino l'Italia dice va cambiato e poi il caso Germania serve un unico diritto d'asilo nell'Unione Europea questo l'approfondimento del politologo Alessandro Campi e poi vedete in basso errore del Ministero posti fissi dimezzati GAF del Ministero del Lavoro sui dati relativi all'andamento dell'occupazione poi il Ministro Pado anche dice giù le tasse ma solo tagliando la spesa pubblica possiamo andare a vedere le pagine interne del messaggero iniziamo da pagina 2 mafia capitale Roma sotto tutela superpoteri affidati a Gabrielli oggi al Consiglio dei Ministri la relazione di Alfano sull'inchiesta in arrivo tre tutor i provvedimenti su assetto del comune scusate è giubileo misure inedite c'è chi teme una forzatura giuridica Renzi pagina 3 non assolve il sindaco ma dice vogliamo salvare la città niente scioglimento anticipato le sorti della giunta legate a quelle dell'esecutivo inutile sottolineare come c'è poi il problema di mafia capitale che ovviamente influisce non poco sulle vicende politiche del primo cittadino che resta all'estero e dice chiaro vogliono mettermi in difficoltà pagina 5 ecco il piano per il giubileo tempi rapidi per gli appalti procedure più veloci e più semplici al prefetto l'incarico di coordinatore resta da sciogliere poi il nodo dei fondi a giorni vertice tra tesoro e campi d'olio e poi la vicenda casa monica messa blindata a Roma l'ira contro i cronisti gli esponenti della famiglia casa monica dicono non siamo l'isis vedete alcune foto scattate all'esterno della chiesa pagina 6 migranti 51 morti soffocati nella stiva calci e pugni a chi cercava di uscire nel canale di Sicilia il 90% delle vittime dell'esodo Merkel affronta i neonazi e dice vigliacco chi attacca i profughi e poi a fondo pagina si va in Ungheria dove si sta costruendo una sorta di muraglia alla frontiera corpi speciali per fermare i profughi vediamo l'approfondimento dalla Serbia sono entrati in 2500 in un giorno nonostante i gas lacrimogeni e poi ci sono le testimonianze ancora avanti pagina 7 l'Europa si prepara a cambiare Roma chiede una nuova intesa l'Italia al fianco di Parigi e Berlino va rivisto subito il trattato di Dublino ma per noi i numeri non varieranno restano 24.000 i richiedenti da collocare e poi muri esercito e quota ne parlavamo qualche istante fa tutti nodi oggi il vertice dei paesi dei Balcani siamo a pagina 8 i posti fissi in più a luglio metà di quelli annunciati avevamo visto in prima pagina sul messaggero la GAF così definita dal cronista del messaggero sui dati che erano stati esposti dal governo si tratta di metà di quelli annunciati il ministero del lavoro sbaglia i dati dei primi sette mesi e si corregge non più 630.000 ma soltanto 327.000 e poi Job Act slitta l'ok agli ultimi decreti attuativi e poi Padoan tasse giù ma solo tagliando la spesa pubblica incentivi previsti per il sud e poi c'è il piano del governo contro il caporalato oggi c'è un vertice con il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina e del lavoro Giuliano Poletti siamo a pagina 9 del messaggero questa pagina dedicata all'approfondimento sulle manovre del governo e su quello che sarà soprattutto per casa decontribuzione Ires ed Irpef il piano per alleggerire il fisco proseguiamo con pagina 11 sempre del messaggero edizione nazionale si parla di politica interna in questo caso del PD perché c'è la campagna per riconquistare la base oltre al tour nei cento teatri per Renzi overdose di feste dell'unità l'obiettivo è quello di caricare i militanti in vista delle elezioni comunali il partito è in difficoltà nei territori e non trova i candidati in città importanti come Napoli e Milano Bonacini all'organizzazione e poi Senato democratici contro Grasso trattativa invece con Forza Italia e poi vedete anche sulle pagine nazionali del messaggero c'è la polemica dopo le dichiarazioni dopo la battuta del premier Matteo Renzi sul Teramo e sui suoi tifosi Teramo ultras e sindaco Matteo ha sbagliato poi approfondiremo questa vicenda nelle pagine provinciali locali dei nostri quotidiani tornando alla politica nazionale centrodestra intesa più vicina tra Salvini e Berlusconi centrodestra che cerca di ricompattarsi pagina 12 follia negli Stati Uniti giornalista e operatore uccisi in diretta tv un uomo di colore spara alla 24enne Alison Parker e al suo cameraman poi scappa e posta il video su Twitter e Facebook vedete in queste foto una parte della sequenza di questa tragedia avvenuta in Virginia negli Stati Uniti si è ucciso con un colpo alla testa era un collega delle due vittime che aveva accusato di discriminazione l'uomo era stato licenziato due anni fa in una lettera alla ABC le ragioni del gesto una vendetta per la strage di Charleston la telecamera usata per gli sport estremi così l'orrore è arrivato sui social network una tragedia all'ennesima negli Stati Uniti pagina 13 rapitori killer e narcos caccia gli ultimi latitanti torniamo alla cronaca nazionale la stretta degli investigatori italiani in otto mesi arrestati 389 criminali tra i ricercati pericolosi c'è ancora il super boss mafioso Messina Denaro che vedete nella prima foto sulla sinistra e poi c'è l'intervista al capo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia che dice decisivi anche i nostri agenti all'estero il nostro metodo funziona prima o poi li prenderemo tutti e poi prima parlavamo di una lotta del governo al caporalato e negli ultimi ore c'è stata un'ennesima tragedia sui campi muore mentre raccoglie pomodori ma il corpo non si trova mistero nel foggiano su un immigrato di 30 anni del Mali la CGL accusa cadavere occultato dai caporali proseguiamo siamo a pagina 14 del messaggero torniamo sul delitto del pizzaiolo e della moglie a Brescia c'è una nuova svolta perché ci sono due indiani in manette gli arrestati sarebbero i complici dei killer dei coniugi seramondi assassinati all'interno della loro pizzeria vedete nella foto i due coniugi uccisi e poi a Bari un'altra notizia di cronaca anziana rapinata e stuprata ci sono due fermi proseguiamo si parla del caso Marò la Corte Suprema dell'India sospende ogni azione giudiziaria dopo la sentenza di Hamburgo stop fino a nuovo ordine vedete nella foto i due Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone siamo alle pagine dell'economia del messaggero l'Asia fallisce il recupero giù le borse periodo nero per le borse europee anche per quella di Milano Shanghai chiude ancora in calo e trascina al ribasso le piazze europee Milano lascia sul terreno lo 0,81% nei giorni scorsi la borsa di Milano era arrivata a perdere anche in un solo giorno il 5,9% Wall Street rialza la testa e chiude con un rialzo del 3,8% occhi puntati sulle prossime mosse della Federal Reserve e c'è poi l'intervista al banchiere Marco Mazzucchelli che dice nervi saldi dopo il terremoto i rischi sono sotto controllo e poi si parla a pagina 16 del messaggero dell'accordo Vodafone Sky Online accordo sui contenuti poi si parla anche della NTV intesa come società di trasporti privata sono in arrivo i nuovi treni e tra i vari interessati perché dovrebbero arrivare anche nuovi manager Cattaneo potrebbe coinvolgere Trilantic azionista di Talgo dunque ci sono grandi manovre nella società privata di trasporti su Rotaia e poi si parla di assicurazioni qui a fondo pagina polizze legate a mutui alto là delle autoriti lasciamo allora le pagine di cronaca nazionale del messaggero andiamo a vedere le pagine di cronaca nazionale invece del quotidiano il centro poi come sempre come di consueto intorno alle 7.20 apriremo la consueta pagina in questo caso che riguarda il tempo il meteo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma per fare il punto della situazione proprio sulla situazione meteorologica in vista anche del weekend l'ultimo del mese di agosto allora torniamo al centro abbiamo visto la prima pagina che parla ovviamente di cronaca regionale vediamo le pagine interne immigrazione emergenza in Europa strage senza fine 50 morti nella stiva e poi l'Ungheria ora allerta l'esercito in un anno 140.000 rifugiati Budapest organizza un corpo speciale di polizia e poi Merkel contestata dai neonazisti tedeschi siamo a pagina 3 del centro riforme fisco tasse giù ma solo tagliando la spesa il ministro Padoan interviene a Rimini al meeting dell'amicizia e dice in questo modo saremo credibili e per la crescita lo zero virgola non basta poi Job Act il ministero ora si corregge i posti sono la metà di quelli annunciati abbiamo parlato prima della GAF del ministero del lavoro e poi si parla anche di benzina consumatori contro le accise rischio di nuovi aumenti nonostante il crollo del prezzo del petrolio la benzina continua quanto meno ad aumentare ma sicuramente mantiene prezzi molto elevati rispetto proprio al prezzo del greggio stati uniti pagina 4 la tragedia torniamo su quanto accaduto in Virginia uccide in diretta televisiva e mette il video su internet shock proprio in Virginia spara togliendo la vita due ex colleghi durante un'intervista l'omicidio si è ucciso la casa bianca accusa troppe armi ora restrizioni vedete nella foto le due vittime da una parte e l'omicida che poi si è suicidato dall'altra quando l'orrore finisce sul web giustamente si dice in questo articolo l'accusa arriva proprio direttamente dalla casa bianca negli Stati Uniti è troppo facile acquistare un'arma troppe armi e ora probabilmente ci saranno delle ovviamente delle restrizioni siamo a pagina 5 del centro mafia capitale il D-Day Campidoglio sotto tutela in tutti i sensi perché Marino è sotto tutela sotto scorta da diverso tempo ma si parla anche di una tutela politica perché alle 12 tra l'altro ci sarà un consiglio dei ministri con la relazione di Alfano scioglimento però solo per Ostia per il comune di Ostia salgono le quotazioni del prefetto Gabrielli che sarà il supervisore del comune dunque per Marino una tutela sotto il punto di vista della sicurezza personale poi una tutela politica dopo i funerali show Casamonica parapiglia alla messa sotto scorta proseguiamo con un'altra pagina di cronaca nazionale del centro l'intervista all'avventuriero Alex un anno sull'iceberg in una capsula per studiare lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia è più che mai questo un problema serio conseguenza dell'aumento delle temperature e questa notizia non può che introdurci proprio a parlare di meteo perché che le temperature negli ultimi anni negli ultimi decenni siano aumentate questa è una quasi certezza e noi andiamo a salutare a dare il buongiorno al nostro meteorologo Giovanni De Palma Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora stavamo leggendo da questa pagina del quotidiano il centro queste interviste a questo avventuriero che sta studiando lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia noi di ghiacciai in Abruzzo non ne abbiamo però in queste ultime ore si è registrato a proposito di temperature un aumento abbastanza elevato soprattutto credo correggimi se sbaglio anche un aumento dei tassi di umidità esatto esatto Paolo è proprio così perché sulla nostra regione dopo l'aumento dopo l'instabilità degli ultimi due giorni è tornata l'alta pressione l'alta pressione che tenderà ulteriormente a rinforzare nei prossimi giorni e se da un lato nelle prossime ore non ci saranno particolari problemi sulla nostra regione ci sarà una bella giornata di sole su gran parte del territorio regionale anche se in queste ultime ore ma anche fino alla tarda mattinata saranno presenti dei banchi di nebbia nelle valli dell'Aquilano e durante le ore centrali della giornata non si escludono degli annuvolamenti degli addensamenti sulle zone montuose localmente associate a dei rovesci però localizzati Paolo sulle zone montuose con occasionali sconfinamenti verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico ma questi fenomeni poi tenderanno gradualmente ad attenuarsi durante le ore serali e notturne non cambierà di molto la situazione nella giornata di domani anche avremo un ulteriore rafforzamento di questa struttura di alta pressione che favorirà ovviamente un graduale ulteriore aumento delle temperature ma anche dei tassi di umidità quindi se da un lato ci saranno valori massimi superiori ai 30 gradi su gran parte del territorio regionale insomma lungo la fascia costiera si potrebbero registrare ovviamente i valori saranno lievemente inferiori rispetto alle restanti zone della nostra regione però insomma dovremo fare i conti con i tassi di umidità piuttosto elevati e questa sarà la caratteristica la configurazione meteorologica almeno fino ai primi giorni della prossima settimana perché insomma soprattutto nelle giornate di sabato domenica domenica farà davvero molto caldo sulla nostra regione però insomma durante le ore serali e notturne le brezze un po' annulleranno l'effetto del riscaldamento di uno quindi insomma come si suol dire la notte si potrà dormire rispetto alle settimane scorse insomma perché non siamo più nel mese di luglio le giornate ci stanno accorciate quindi la brezza tende ad arrivare prima rispetto a quanto accaduto nel mese di luglio quindi c'è questa questa è una piccola buona notizia invece in Paolo ripeto non ci saranno sostanziali variazioni almeno fino alla metà della prossima settimana ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici provendono verso un graduale peggioramento del tempo a causa della progressiva attemazione dell'alta pressione proprio tra mercoledì e giovedì prossimo a favore di correnti atlantiche che ovviamente in questo periodo tendono ad essere via via più vivaci e più incisive probabilmente ma poi ci torneremo su nel corso dei prossimi giorni insomma a partire da giovedì sulla nostra penisola giungeranno perturbazioni atlantiche che determineranno non solo una graduale ma insomma progressiva diminuzione delle temperature ma anche un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche è presto per parlarne adesso godiamoci questo weekend lungo diciamo con il bel tempo e con il clima decisamente estivo perché insomma probabilmente sarà l'ultimo con queste caratteristiche quindi insomma approfittiamo soprattutto per coloro che volessero regarsi al mare ma anche per poter effettuare escursioni sui nostri rilievi nel fine settimana insomma sarà diciamo il periodo ideale Paolo benissimo grazie Giovanni dunque chi può ne approfitti in questo ultimo weekend di vera estate nella nostra regione io ringrazio Giovanni De Palma come sempre puntuale con le previsioni appuntamento con te a domani sempre nel corso di mattino 6 grazie Giovanni buon lavoro grazie a te Paolo una buona giornata a te e a tutti i telespettatori di TV6 bene ringraziamo Giovanni De Palma per le previsioni meteo gli strumenti ormai li conoscete il sito www.abruzzometeo.org diretto proprio dal nostro Giovanni De Palma come vedete aggiornato in tempo reale per sapere davvero tutto sulle previsioni del tempo per le prossime ore per i prossimi giorni e poi anche il consueto la consueta pagina Facebook del social network per interagire con il nostro meteorologo allora noi lasciamo il meteo torniamo alla lettura dei quotidiani prima di fermarci per qualche istante abbiamo il tempo per vedere la prima pagina del centro di cronaca regionale è nell'alvia i rimborsi 26 milioni di euro per 120 mila utenze sono già arrivati i primi rimborsi ai cittadini Abruzzesi ne ha parlato ieri in conferenza stampa nella sede della regione a Pescara l'assessore alla protezione civile Mazzocca che abbiamo ascoltato Assessore Mazzocca una bella notizia per gli abruzzesi perché sono già arrivati i primi rimborsi dell'Enel sì abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di diversi cittadini dei 212 comuni abruzzesi colpiti dalla emergenza metodo in marzo scorso che hanno ricevuto questa bella notizia questo bel fatto concreto l'accezione di assegni circolari che rimborsavano per varie cifre per quelle consentite dalla legge questa mancata erogazione del servizio che superava di gran lungo le 24 ore previste dalla legge e ci pareva giusto sottolineare il fatto che in Abruzzo è la prima volta che ciò accade le cose buone avvengono ovvero ancorché previste dalla legge i diritti dei cittadini vanno comunque in ogni caso supportati e adeguatamente evidenziati e noi questo abbiamo fatto riteniamo doverosamente poi credo che sia da sottolineare anche l'altro impegno che assunse nella data del 22 giugno scorso quando facevamo l'assemblea pubblica con il territorio con i sindaci con il presidente delle province molto frequentata l'Aquila ovvero quello di avviare questo piano di investimenti che è stato rimodulato tant'è che prevede nel prossimo inquennio 220 milioni di euro di investimenti sulla manutenzione straordinaria della rete abruzzese e quest'oggi ci hanno confermato come questo piano è stato già avviato e già in essere e contiamo che possa procedere speditamente nel prossimo futuro queste le dichiarazioni dell'assessore Mazzocca sui rimborsi dell'Enel noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 nuovo in studio per la seconda parte di mattino 6 eravamo alle pagine della cronaca regionale del centro altri titoli dopo aver visto quello riguardante i rimborsi Enel per gli abruzzesi i carabinieri il generale quarta al comando centro amministrativo il 7 settembre il generale di brigata cederà il comando della regione carabinieri d'Abruzzo e poi termoli trivelle zero molise contro ampliamento del campo rospo mare dunque anche in Molise molti comitati contro le trivelle e poi in basso questo articolo che riguarda Pescara che sarebbe secondo i dati in possesso la capitale della scappatella sono infatti 2.499 gli utenti iscritti al sito di incontri Asley Madison proseguiamo con un'altra pagina della cronaca regionale torniamo a quanto accaduto all'Aquila nelle ultime ore questa divisione tutta in famiglia tra il vicepresidente della regione Giovanni Lolli ed il figlio Lolli vicepresidente della regione da una parte il figlio Mattia come leggiamo in questo articolo alla testa dei contestatori ieri vi abbiamo proposto anche un servizio nel corso del TG6 su questa contrapposizione tutta familiare e vedete le dichiarazioni di Giovanni Lolli vicepresidente della regione che dice caro figliolo va bene l'impegno ma stavolta hai esagerato dall'altra la risposta proprio di Mattia Lolli caro papà non vi riconosco più siete diventati Forza Italia andiamo avanti siamo alla cronaca di Pescara del centro poi torneremo a parlare di quanto è accaduto all'acqua il presidente dell'acqua troppe fogne abusive di Baldassarre dice il depuratore di Fosso Pretaro funziona e poi pagina 13 l'acqua torna balneabile ma il divieto rimane dunque ci sono ancora problemi il titolare del pirata uno degli stabilimenti dice danno da 50 mila euro e poi l'associazione Terra Nostra che lancia una provocazione e dice non pagate gli ombrelloni proseguiamo pagina 14 la manifestazione contro Renzi Acerbo nei disordini dell'Aquila attacca il questore per gli scontri l'esponente di rifondazione coinvolto insieme a Di Sante nel caos per la visita del premier da noi niente provocazioni dice Acerbo la polizia ha fatto il proprio dovere ma qualcuno ha ordinato la carica allora io direi visto che siamo tornati in argomento l'Aquila di andare a vedere il servizio che ha realizzato proprio la nostra redazione Aquilano uno dei servizi che vi abbiamo proposto nel Tg6 di ieri per vedere cosa è accaduto proprio sul fronte dell'ordine pubblico nel capoluogo regionale in occasione della visita del presidente del consiglio Matteo Renzi alla fine la visita del premier Renzi sarà ricordata per le dure contestazioni per gli scontri e per le manganellate nessun giro in centro la sensazione di aver messo in secondo piano le problematiche della città dell'Aquila nessun contatto con i giornalisti dietro le transenne insomma chi doveva lavorare dentro la solita passerella quello che abbiamo fuori all'indomani della visita di Renzi è che nella gestione dell'ordine pubblico qualcosa sia andato storto un vero e proprio flop con i manifestanti i locali e quelli giunti dalla costa per Obrina Mare che sono riusciti a deglittura prima di arrivare a Silo a Palazzo Fibioni sede del comune dell'Aquila e poi anche alla villa comunale dove era atteso il premier che più volte ha cambiato il suo programma a causa degli scontri per l'incontro al Gran Sasso Science Institute i manifestanti non erano molti per la verità 3.32 precari della scuola not rive i momenti più violenti dinanzi alla villa comunale dove la polizia ha caricato i manifestanti con le manganellate il bilancio alla fine della giornata è questo due feriti in modo lieve tra i manifestanti il nasorotto di una poliziotta urtata davanti a San Bernardino da un collega nel tentativo di bloccare la corsa dei manifestanti verso Palazzo Fibioni nell'Aquila blindata a ferro e fuoco tutti hanno lavorato fatta eccezione per i giornalisti messi da parte che non hanno potuto far altro che scavalcare anche loro le transenne per tentare quantomeno di documentare la protesta sarebbero state tante invece le domande da rivolgere al premier Matteo Renzi dalla sua prima visita ufficiale all'Aquila dopo un anno e mezzo dal suo insediamento una visita che sarà ricordata non certo per i contenuti ma soprattutto per le apparenze questo è il servizio realizzato dai nostri colleghi della redazione dell'Aquila pagina di Pescara del centro Diga Foranea appalto entro l'anno nuovo vertice in comune dalla regione 3 milioni e mezzo di euro per realizzare i lavori e poi la cronaca stalker arrestato tre volte la vittima 10 anni di inferno a 73 anni perseguita la vicina il giudice continua a concedergli i domiciliari proseguiamo pagina 16 la città che non piace piazza salotto nel degrado l'assessore sogno il calice l'area in stato di abbandono marcheggiani rivuole il bicchiere di toioito ma il vice sindaco del vecchio esclude interventi in zona sono altre le priorità e poi sotto ci sono le interviste da alcuni cittadini che dicono in particolare che l'area è spoglia e manca il verde andiamo ancora avanti con pagina 17 del centro sempre edizione cronaca di Pescara si parla dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia prima edizione finiti i biglietti per la prima festa ma è polemica per la cerimonia d'apertura nelle aree ex cofa Foschi dice troppi VIP maxi schermo al porto turistico ponte del mare chiuso cena di gala con 200 invitati e poi palio dei colli e la serata del teatro dialettale andiamo ancora avanti proseguiamo pagina di Francavilla del centro grandi opere sotto passi ecco la città in cantiere il sindaco annuncia un autunno che sarà costellato da interventi di riqualificazione e lavori pubblici dal porto turistico alla torre di palazzo sirena e poi moroni dice invece strade dissestate e pericolose il consigliere caporuppo di forza italia in basso andiamo a san giovanni teatino in canto armeno all'auditorium al pianoforte il talento dimitri iskanov di appena pensate dieci anni e poi a manopello si giocano sabato le partite del memorial restiretti pagina di montesilvano del centro città sporca nuova ordinanza via lazio tre giorni per eliminare la discarica abusiva e poi controlli dei nas dei carabinieri in macellerie e negozi arrosticini e pesce sequestrati e distrutti dopo il blitz dei nas sempre a montesilvano moda al teatro del mare sabato la lunga notte del montesilvano fashion lab ancora pagine della cronaca della provincia di pescara siamo a spoltore in questo caso ritroviamo la notizia che avevamo visto in prima pagina spoltore città che cresce con tanti residenti single dei dati del comune relativi al pagamento della tassa dei rifiuti emerge che è la tipologia delle famiglie con due componenti e il modello prevalente e poi a montesilvano stop alla giungla delle insegne bando comunale per rinnovare gli impianti di pubblicità cittadini e poi a santa teresa di spoltore tentato furto con spaccata al tigre andiamo ancora avanti dopo l'inserto su benessere e salute siamo alla pagina di penne popoli val pescara frane pochi fondi e neppure l'ombra di un cantiere penne a quasi sei mesi dai danni provocati dal distesto idrogeologico le contrade cittadine sono tutte in ginocchio e poi prosegue il sogno di giorgiatini per miss italia mentre a caramanico torna la delegazione bavarese torniamo restiamo anzi in Val Pescara a bus in questo caso 100.000 euro sugli impianti idrici mentre a Torre dei Passeri c'è la sagra degli arrosticini siamo alla pagina sì pagina dell'Aquila del quotidiano il centro primi volti nel mirino identificati violenti torniamo all'argomento delle ultime ore informative alla procura dopo gli incidenti nel corso della visita di Renzi al vaglio e filmati poliziotta di messa dall'ospedale migliorano gli altri feriti e poi orgogliosi per i complimenti di Renzi Coccia Gran Sasso Science Institute il premier ha dimostrato di conoscere i problemi della città e poi nell'altra pagina grave danno d'immagine si doveva parlare d'altro parla in questo caso il sindaco Massimo Cialente che dice c'è chi ha voluto sviare il discorso rispetto ai temi della ricostruzione e poi Cioni e Reinaldi che dicono occasione sfruttata male commercianti e imprenditori interventi troppo generici e sviolinate per ingraziarsi l'ospite siamo alla pagina di Chieti del centro cronaca una tragedia agricola un incidente agricolo a San Salvo travolto dal trattore muore pensionato l'uomo stava spostando il mezzo agricolo da una rimessa a dare l'allarme è stata la vicina di casa che ha sentito le urla e poi a Lanciano spinto a terra batte la testa grave un cinquantenne e poi si parla del tribunale ecclesiastico di Chieti arriva a Buzzelli l'ex parroco di Palena indicato come vicario giudiziale al posto di Monsignor Pizzari poi pagina di Teramo del quotidiano il centro si parla del Teramo Calcio la città chiede le scuse di Renzi non si scherza sul Teramo in D il caso Savona nervi a fior di pelle immobilitazioni anche dopo la battuta del Premier oltre al Sindaco Brucchi anche il PD cittadino condanna la battuta fatta all'Aquila sui Biancorossi mentre nasce una pagina Facebook contro il Premier che in poche ore arriva a mille mi piace ieri ci sono state delle dichiarazioni significative anche pesanti del primo cittadino di Teramo Maurizio Brucchi che andiamo ad ascoltare in questo servizio qualcuno le ha definite armi di distrazione di massa altri si interrogano sul perché si dia tanto clamore ad una battuta fatta su una squadra di calcio dal Premier piuttosto che alle reali difficoltà che i cittadini vivono quotidianamente come lunghe code per effettuare esami in ospedale servizi sempre meno numerosi e condizione delle strade la lista continua per intere pagine di post su Facebook tutto nasce dalla richiesta di dimissioni verso il Premier Renzi avanzate dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi per quella battuta infelice sui tifosi che spiega poi un Premier non può scherzare con i problemi di un'intera regione è fuori da qualsiasi logica il fatto che il Premier Renzi viene in visita in Abruzzo e cerca di giustificare eventuali critiche o anche manifestazioni giusto o non giusto ho la mia idea ma le voglio giustificare diciamo dando la responsabilità ai tifosi da Teramo Calcio io credo che sia una cosa davvero grave grave detta soprattutto dal nostro primo ministro da quello che rappresenta tutti i cittadini italiani compreso i cittadini teramani fosse anche per battuta è una battuta di pessimo gusto io mi aspetto le scuse ufficiali di Renzi non al sindaco Maurizio Brucchi ma alla città di Teramo e ai teramani che in questo momento stanno soffrendo perché vedono sfumare un sogno un sogno aspettato 102 anni ora torto a ragione questo lo deciderà la magistratura sportiva di cui abbiamo massima fiducia però dico anche che è davvero una nota stonata in un momento difficile per il nostro paese Renzi ha annunciato che toglierà la tasi toglierà tutte le varie tasse locali io spero che questo non sia un boomerang che torni nuovamente addosso a noi sindaci a noi amministratori che siamo stanchi di fare gli esattori per conto del governo mi sono posto una domanda stamattina se fosse accaduto a parti invertite cioè Renzi sindaco di Firenze perché lo è stato anche se lo ha dimenticato spesso lo ha dimenticato facilmente di essere stato troppo velocemente di essere stato sindaco dicevo se a parti invertite Renzi sindaco Berlusconi si fosse permesso di fare un apprezzamento di questo genere sulla Fiorentina che cosa sarebbe successo? La stampa nazionale cerca il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi per le dichiarazioni fatte dal premier Renzi Veramente c'è stata una sommossa io ho ricevuto stamattina un mare di telefonate e mi stanno chiamando anche giornali nazionali perché davvero ha fatto scalpore ripeto soprattutto perché c'è una città una tifoseria una squadra un allenatore che vivono un momento assolutamente difficile Oggi a Roma quando verrà discusso il ricorso di secondo grado della società bianco-rossa ci saranno molti tifosi del Teramo tre pullman e auto private vedete l'articolo in basso in 300 a Roma nella foto Guido Campana ex assessore allo sport consigliere comunale che è stato fra i promotori di questa iniziativa allora lasciamo le pagine del centro perché per lo sport torneremo a parlarne tra qualche istante e passiamo invece al messaggero per andare a vedere le pagine dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano in questo caso per vedere quali sono i titoli principali che vengono presi in esame nell'edizione di oggi prima pagina cronaca d'Abruzzo Renzi all'Aquila occasione persa e poi vedete la foto l'appello l'obiettivo salvare la serie B il Teramo si gioca tutto e poi Beach Games Pescara Blindata domani la grande inaugurazione poliziotti in arrivo da otto questure italiane per proteggere atleti e cittadini tra l'altro ci sono anche atleti della Siria e di altri paesi che sono in piena guerra civile poi si parla dell'università a Teramo tutto facile con il beige vedete nella foto il magnifico rettore D'Amico e poi in alto altre notizie che ritroveremo all'interno calcio a 5 UEFA Fuzzol Cup il Pescara ne fa 9 ai Maltesi 9 a 0 nell'esordio in Coppa per la formazione dell'amministratore delegato del patron Danilo Iannascoli allora andiamo a vedere l'altra pagina di cronaca regionale del messaggero si parla di politica in questo caso i ribelli del centro-sinistra alle associazioni cultura da cambiare ieri nuovo incontro secondo i tre dovrebbero seguirne molti altri Gerosolimo si muove già da assessore Tuona servono regole Enel arrivano i rimborsi per il blackout di marzo abbiamo visto il servizio qualche minuto fa e dietro la crisi c'è la corsa un posto in Parlamento cedere una poltrona in giunta in cambio di una candidatura blindata e poi c'è la fronda Teramana siamo all'Aquila scontri Cialente assolve gli Aquilani dopo il quanto accaduto il sindaco loro non c'entrano con le violenze il 90% è arrivato da fuori alla ricerca di incidenti PD e assessori all'unisono danneggiata la città la ricostruzione è passata completamente in secondo piano e poi agente con il naso fratturato caccia ad un giovane manifestante palazzo e piazza un'occasione persa proseguiamo ancora cronaca dell'Aquila crisi in comune no solo un equivoco Cialente non vuole andare a casa ma chiede chiarezza e poi prendono l'anticipo e non fanno i lavori due imprenditori denunciati dalla squadra mobile poi crollo in via d'annunzio condannato ricorre in appella e poi si parla di perdonanza covatta in piazza Duomo in uno degli eventi della perdonanza celestiniana siamo alla cronaca di Avezzano Sulmona aggredita un'altra prostituta emergenza si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella zona della stazione la donna è stata presa a calci e pugni nel cuore della notte le urla hanno richiamato l'attenzione dei vicini sull'episodio indaga la polizia inferociti residenti della zona e poi a Avezzano Coca Cola il 28% del personale in Abruzzo mentre a Sulmona dipendente comunale fa causa per mobbing e siamo a massa d'albe perché l'ambasciatore del Belgio in Italia ha visitato Alba Fucens ad Alfedena avvocato disabile avvolto dalle fiamme è stato salvato da due militari e ricoverato all'ospedale di Castel di Sangro a Scontrone furti in tre case rubati personal computer e auto a Sulmona via Dorrucci la sovrintendenza dice no e proseguiamo siamo alle pagine di Pescara del quotidiano il messaggero Porto entro l'anno l'appalto per aprire la diga Forania riunione operativa a Palazzo di Città vedete nella foto il tavolo tecnico convocato ieri in comune presenti anche da Alfonso ed il provveditore Linetti una barriera soffolta sarà realizzata grazie al finanziamento del ministero e poi il collegamento con la Croazia la SNAV tradita dai pescaresi l'anno scorso il conto totale dei passeggeri arrivò a quota 17.000 ma quest'anno le cose stanno andando in modo diverso poi si parla ancora dell'inquinamento si torna a parlare dell'inquinamento delle acque Padovano contro Aca e Arta sostituire anche i tecnici dice l'esponente del partito socialista poi in comune Lite tra Dezio e Teodoro il dirigente si dimette il capo di gabinetto pronto a lasciare dopo lo scontro il consigliere risponde solo divergenze su una delibera e poi caduti del mare stamattina cerimonia per il monumento ancora cronaca di Pescara rosticini e pesce sequestrati dal NAS tolti dal mercato 70 chili di prodotti macelleria nei guai a Montesilvano e poi presidente a costo zero Fimiani al conservatorio è stato nominato dal ministero in carico gratuito ma che impone responsabilità impegnative dice Fimiani e poi che festa per San Cetteo grazie a Don Natoli nel 1971 la città tornò a celebrare il patrono poi colli senza frontiere innamorati colli innamorati in questo caso in testa alla Kermess giochi blindati in campo 300 poliziotti massiccia presenza di agenti a Pescara e da altre otto questure per la sicurezza dei partecipanti e pubblico dei beach games domani la cerimonia di apertura nelle aree dell'ex cofa polemica sui biglietti a ruba ma ci sarà un maxi schermo Montesilvano rifiuti in Vialazio interviene il sindaco e poi tentato colpo con spaccata al supermercato Tigre di spoltore l'allarme dei residenti ancora croneche da Pescara e Interland pescarese Michele Placido difende il mare di Francavilla Montesilvano da strada i baby ciclisti della Chiclos e poi alle Paiot da Germano a Uliassi doppia serata tra chef e poi infine la premiazione festa della simpatia Razzi superstar in questa manifestazione che si terrà proprio a Montesilvano tra l'altro verrà premiato anche il nostro TG6 telegiornale dell'emittente TV6 appunto andiamo ancora avanti siamo a Chieti la pagina di Chieti del quotidiano in messaggero di scarica a fuoco ecco il progetto del comune per la fase 1 stimati 450 mila euro per l'intervento di messa in sicurezza poi depuratore San Martino blitz di sindaco e forestale tribunale ecclesiastico napolitano verso il no mentre all'università campus nel campus ci sono proteste e polemiche pagina di Lanciano vasto ortona un altro morto l'estate dei trattori killer abbiamo visto dell'incidente mortale di San Salvo dove ha perso la vita un 74enne poi a Lanciano porno stare in mutande la procura apre un'inchiesta a vasto pedone investito scattano le indagini a Lanciano via alle feste di settembre tanti eventi con pochi soldi ad Ortona dopo il rimpasto l'azzeramento della giunta deciso dal sindaco è partito il toto assessori proseguiamo pagina di Teramo del messaggero cardio e neurochirurgia sono a rischio trasferimento si parla di sanità del decreto Lorenzin in alcuni reparti potrebbero emigrare al San Salvatore dell'Aquila la spada di Damocle della spesa extra per i farmaci e poi la procura chiede il processo per l'ex direttore generale Profeta viene contestata l'estorsione ai danni dei Paterna avrebbe minacciato di non pagare dei lavori svolti voleva vendere abbonamenti e avere sponsorizzazioni vedete nella foto l'ex direttore generale di Banca di Teramo Roberto Profeta c'è la procura chiede il processo come si legge in questo articolo poi Sant'atto auto contro camion grave una donna e poi i disabili non mollano quante bugie in comune siamo alla pagina di Giulianova Roseto Valvibrata barca sugli scogli salvati 5 ragazzi è accaduto a Giulianova mentre sangue sulle strade non ce l'ha fatta purtroppo il fornaio che era rimasto ferito in un incidente nei giorni scorsi l'uomo è deceduto ed era molto conosciuto tra l'altro Castelnuovo Vomano e poi torniamo a Giulianova cartelle pazze della Tari la minoranza spara zero Valvibrata alba adriatica analisi ok un'estate quasi perfetta infine Roseto l'opposizione graffia bilancio solo tasse prima di passare le pagine dello sport abbiamo da andare a leggere insieme le pagine invece del quotidiano la città di Teramo prima pagina Forza Teramo titolo a tutta pagina proprio sul processo sul ricorso di secondo grado in programma oggi a Roma Campitelli a Roma con Chiacchio e Cerulli Relli per riavere la serie B vediamo le pagine interne seconda pagina Campitelli gioca l'asso Cerulli al fianco di Chiacco anche il professore Vincenzo Cerulli Relli nel collegio di difesa nel collegio legale della società Bianco-Rossa e poi vedete in passo 250 teramani verso Roma pagina 3 si parla ancora della vicenda di Irti Soccer e del processo al Teramo in questo articolo in questa lettera Santa Inquisizione contro il Teramo e poi la figuraccia Teramo in D Renzi si scusi per la gaffa abbiamo ascoltato anche l'intervista del sindaco Brucchi che ha chiesto le dimissioni del presidente del Consiglio cronaca ad Abruzzo la visita in Abruzzo scusate il gioco di parole porta male al Premier dopo le protesti in piazza all'Aquila l'incontro blindato coda di critiche da opposizione associazioni e società civile poi Enel in basso arrivano i primi rimborsi in bolletta per il blackout di marzo abbiamo ascoltato l'assessore Mazzocca ancora pagina di Teramo chiesto il processo per l'ex direttore generale Profeta il dirigente della banca della BCC Teramana avrebbe costretto due imprenditori a comprare azioni e quadri per evitare guai con la banca e poi Teramo Ambiente il PEF da 100 milioni passa in secondo piano per il Teramo Calcio poi Disabili non si fa legna sulla Croce di Cristo lettera aperta e prese di posizioni sul nuovo sistema di contributi alle famiglie dopo l'incontro in municipio ancora polemiche e poi provincia il fornaio di Castelluomo non ce l'ha fatta Rosario Di Giancroce è morto ieri all'ospedale Mazzini di Teramo dopo il grave incidente a Pagliare di Morrodoro e ancora cronaca ancora un incidente a Sant'Atto grave una 54enne Teramana siamo a pagina 10 cronaca della Val vibrata Civitella trovato il bot più antico d'Italia emesso dallo Stato nel 1862 i controlli dei NAS arrosticini scadenti multe e sequestri anche nel Teramano e poi a Tortoreto assessori dirigenti e indennità Maretta in Giunta Giulianova piccoli velisti si schiantano contro il Molo Nord sono stati salvati da Guardia Costiera e Croce Rossa e poi Roseto Pineto Atri e Silvi altro che tagli Tari aumentata del 20% proseguiamo l'ultima pagina bellezza Miss Grand Prix e Mister Italia verso la finale si parla di concorsi di bellezza poi lo sport il San Nicolò non si fa intimorire da Oddo ieri amichevole a Colonia Spiaggia tra il Pescara ed il San Nicolò Pescara che si impone per 2 a 0 ma al termine della gara su tutte le furie il tecnico biancazzurro Massimo Oddo che ha rilasciato un'intervista che andiamo a vedere insieme in cui manifesta tutta la sua delusione anche preoccupazione dopo la gara di ieri ma soprattutto dopo quello che è accaduto nel calcio mercato con il mancato arrivo dell'attaccante Boacì e del difensore Salamon ascoltiamo Oddo Buona sgambatura con il San Nicolò queste partite non hanno valore per quanto riguarda il risultato che Pescara ha visto oggi male peggio di così non si può fare quindi sono molto ottimista lei ha detto prima non voglio parlare più di mercato però da qui al termine delle trattative si aspetta sicuramente qualcosa anche senza fare nuovi senza parlare di giocatori di chi poteva arrivare e chi non è arrivato ripeto ancora una volta che la società sa perfettamente al corrente di quello che servirebbe a questa squadra e vediamo se da qui alla fine arriverà qualcuno ci sarà quest'amichevole sabato prossimo con l'Aquila e poi sarà campionato quindi ci si avvicina a grandi passi all'inizio del torneo con quali aspettative con quali speranze di fare il meglio possibile questa gara con il Livorno all'esordio si aspettava quest'inizio un po' in salita con partite difficili oppure sperava di incontrare qualche avversario più alla portata oppure non cambia nulla non ci sono avversari alla portata se non è la giusta mentalità quindi la nostra mentalità deve essere univoca sia che incontri una squadra reputata di fascia inferiore che superiore quindi per noi non cambia assolutamente niente dovremmo essere noi bravi ad approcciare il migliore dei modi questo campionato e le prime partite sono alcuni giocatori infortunati alcuni atleti resteranno fuori per più settimane Oddo è preoccupato per questi contrattenti sono cose che nel calcio succedono speriamo di recuperare il più presto possibile i momentanei infortunati e facciamo con quello che abbiamo grazie prego molto arrabbiato Massimo Oddo di poche parole avete visto in questa intervista Boacivola in Grecia Pescara ha beffato questo è il titolo del centro proprio sulla formazione Bianca Azzurra vedete battuto il San Nicolò ma Oddo è furibondo nell'articolo in basso poi il giorno del giudizio pomeriggio di fuoco il Teramo rivolge la Serie B alle 16 il Via Lappello e Campitelli Calalasso Vincenzo Cerulli Irelli Virtus Assalto a Donnarumma Migliorini Obagadur per la difesa Calcio a 5 Pescara Travolgente Novereti a Luxol chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero lo faremo tra qualche istante tra l'altro vi anticipo che oggi con il nostro inviato Andrea Costantini saremo a Roma per seguire in diretta con diverse finestre informative non solo nel corso delle nostre edizioni del TG6 tutto quello che accadrà proprio nella capitale per quanto riguarda il processo di secondo grado l'appello per il Teramo Calcio con Andrea Costantini collegamenti in diretta da Roma Teramo bisogna crederci ecco il titolo che riguarda proprio la Teramo Calcio Pescara tutto su cocco dopo il no di Boacì e questi sono i titoli principali per quanto riguarda il calcio dalle pagine del messaggero ma oggi sarà una giornata importante importantissima per il Teramo appuntamento con la prima edizione del TG6 alle 14 con i collegamenti da Roma con il nostro inviato Andrea Costantini per seguire la vicenda Teramo è tutto grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito Grazie a tutti